Marcella Carlisi, consigliere comunale di Agrigento del Movimento 5 Stelle, si è fatta carico di organizzare una petizione popolare per sfiduciare il sindaco Lillo Firetto. Tutto secondo programma, con un gazebo allestito in piazza Cavour, dove i cittadini hanno avuto l'opportunità di esprimere con la firma la sfiducia al primo cittadino di Agrigento. Così, ieri mattina, ci sono stati 300 agrigentini che si sono avvicinati al gazebo per apporre la propria firma. Strana però la scelta degli organizzatori di essere presenti solo di mattina. Questo ha comportato sicuramente un numero esiguo di firme che non corrispondono ovviamente al malessere che serpeggia in città, proprio nei confronti dell'amministrazione guidata da Lillo Firetto. 300 cittadini che hanno firmato non rappresentano infatti la maggioranza di delusi dalla gestione politica del capoluogo. La città è alle prese con problematiche anche di grave entità, come nel caso dei quartieri abbandonati a se stessi, con le erbacce che coprono persino i marciapiedi e creano seri problemi di salute a chi soffre di allergia. Lamentele sopra lamentele, insomma, che non possono essere contenute in sole 300 firme. Ma se da un lato la città, seppure in misura minima, si è espressa contro il sintaco Firetto, dall'altro vi è un consiglio comunale diviso, con l'aggravante che diversi consiglieri comunali, che tutti i giorni, anche con note stampa, rivolgono accuse all'amministrazione per poi, come nel nostro caso, tirarsi indietro, negando di fatto l'opportunità di firmare la sfiducia al sindaco su proposta del consigliere Pentastellato. Secondo Marcella Carlisi, Agrigento soffre per la politica appunto portata avanti da Firetto, che difficilmente potrà dormire sonni tranquilli. Grazie. 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 Grazie.